Ed eccoci qui, finalmente ci siamo per fare il riepilogo totale di quello che è stato il calcio mercato estivo della Juventus perché indubbiamente quest'estate, a differenza per dire magari dell'estate scorsa, abbiamo veramente passato una bella estate intensa, ricca di emozioni, ricca di novità, ricca di tante entrate, ricca di tante uscite anche se adesso ovviamente il compito più importante, come sempre ad onor del vero, spetterà al campo e tra l'altro mi sento ad aggiungere, in virtù della notizia definitiva arrivata ieri per quanto riguarda Gedeon Sancho è proprio bello fare questo video con questi capelli, è semplicemente un qualcosa di meraviglioso ma sto già divagando, sto già andando decisamente oltre prima di entrare nel merito vi invito a lasciare un bel mi piace e mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi che al di là di tutto quella rimane pur sempre la cosa fondamentale ci siamo divertiti, ci siamo divertiti tantissimo negli ultimi due mesi e vi ringrazio al di là delle battute di come tutto quanto sia andato incredibilmente bene e la maggior parte di questo è indubbiamente merito vostro ma allo stesso tempo non vedo per quale motivo fermarci, no? si è fermato il calcio mercato, noi continuiamo e tiriamo avanti come un frecciarossa di quelli prepotenti, eh? detto questo, tornando invece ai nostri discorsi per quanto riguarda questa sessione di calcio mercato immagino che l'obiettivo della Juventus di fatto fosse solamente uno anzi, ad onor del vero più di uno ma il tema principale in virtù delle tantissime operazioni fatte credo proprio sia quello della rivoluzione accompagnato anche da sostenibilità perché per quanto si dica, eh, la Juventus ha speso 200 milioni caso strano non si fa mai caso a quanto la Juventus ha guadagnato a quanto la Juventus ha magari risparmiato da tutti quegli stipendi faraonici che caso strano adesso non ha più quelle robe non si tengono mai in conto che strano, che strano ma qui magari ci farò un video un pochino più specifico quando veramente esperti del settore si andranno ad esprimere nel merito non basandoci magari sulla cloaca che abbiamo la possibilità di vedere sui social network dove si dice tutto, il contrario di tutto ma fondamentalmente senza dire niente ecco, a tempo debito probabilmente arriverà un video e a tempo debito probabilmente sarà quando il professor Bava si andrà ad esprimere nel merito di questa roba qui ma dato che comunque noi siamo tifosi e non contabili a differenza di tifosi interisti su X che si dilettano a guardare ogni minima roba contabile della Juventus non vedo la connessione ma se loro si divertono così ben venga, noi da tifosi dobbiamo pensare a tutto quello che è stato il lavoro fatto per migliorare oppure no la squadra perché può essere anche legittimo che uno dica no, secondo me questa Juventus è più scarcia rispetto a quello dell'anno scorso sarebbe uno da neuro ma comunque è giustissimo che ognuno legittimamente possa avere il proprio punto di vista e ci mancherebbe altro perché per quanto riguarda le uscite ecco, sinceramente penso sia stato fatto un piccolo capolavoro ad onor del vero perché quest'estate comunque sono stati ceduti oppiazzati sulle alla Roma Uizen al Barnemouth Iling Junior e Barrenecea alla Stonevilla Moise Ken alla Fiorentina Caio Orge al Cruzeiro Federico Chiesa al Liverpool Facundo al Feyenoord Miretti in prestito al Genoa De Sciglio all'Empoli Gianluca Frabotta al West Bromwich Nicolussi Caviglia al Venezia Rugani all'Ajax Marley Ache all'Ieverdon Sport presumo non so sinceramente come si pronuncia spero mi possiate perdonare sinceramente per un totale di 14 operazioni in uscita che viene da sé insomma è un numero abbastanza importante infatti non so se vi ricordate che in lungo in largo in realtà da metà luglio a metà agosto fino a quando non si è andata a sbloccare l'operazione Calulu in molti hanno detto ma col senno di poi è davvero convenuto far dire quelle dichiarazioni a Tiago Motta post Brest vedendo che in una maniera o nell'altra non sei riuscito a piazzare tipo letteralmente nessuno insomma mi pare che col senno di poi si possa dire che tutto sommato hanno anche avuto senso le dichiarazioni di Tiago Motta post Brest perché certo anche come prevedibile sotto certi aspetti la Juventus non è riuscita a liberarsi del 100% degli esuberi però comunque del 90% abbondante dire proprio di sì poi sai bisogna anche pur sempre dire comunque delle cose per gli esuberi rimanenti che fino a prova contraria per Kostic con la Fiorentina era tutto fatto poi c'è stata la polemica dei tifosi della Fiorentina e il club viola ha fatto il passo indietro al contempo lui ha sempre rifiutato ogni qualsiasi altro tipo di destinazione e quindi insomma sulla carta in una maniera o nell'altra la Juventus Kostic era pure riuscita a piazzarlo però se poi si vanno ad intersecare situazioni poco piacevoli non puoi neanche sparare al giocatore se non dice sì al primo club che passa sotto tiro sinceramente Arthur per un attimo sembrava tutto fatto al Napoli poi proprio ieri sono andati a sbloccare Gilmour del Brighton che pure a quello lì sono stati dietro tipo due mesi e mezzo l'hanno sbloccato l'ultimo giorno e in un modo o nell'altro la Juventus è rimasta con una sorta di Cerini in mano per quanto riguarda Arthur dove qui al di là di tutto io aprirei anche una piccola parentesi su quello che di fatto non è stato l'operato di Pastorello perché praticamente la Fiorentina è tipo da febbraio che aveva già detto che non avrebbe riscattato il giocatore penso che qualcuno della Juventus abbia detto a tempo decisamente debito alla gente di Arthur che non sarebbe stato minimamente nei piani e che comunque di fatto da febbraio fino al 30 d'agosto il suo unico compito era quello di trovare un'altra sistemazione per Arthur ma evidentemente il lavoro di Pastorello non è che sia stato impeccabile sotto questo punto di vista evidentemente nel momento in cui ha mercato chiuso quantomeno in entrata Arthur continua ad essere un giocatore della Juventus e per quanto riguarda Giallò ecco vedendo la giornata anche quasi tragicomica che il giocatore ha passato ieri a Roma ho da dire fin a una certa sinceramente poi sì per l'amor di Dio la situazione Giallò nella sua totalità proprio dal momento dell'acquisizione evidentemente soprattutto col seno di poi non è che sia stata gestita proprio in una maniera impeccabile però effettivamente pure lui di fatto l'avevi dato alla Roma in prestito con diritto di riscatto per 9 milioni più uno eventuale di bonus cosa devi dire se sto qui alla fine lo fanno arrivare a Roma ieri mattina lo tengono parcheggiato in un hotel per tutto il giorno per cercare di capire se riescono a prendere qualcun altro oppure no sono rimasti questi tre esuberi effettivamente per quanto riguarda un discorso legato al pacchetto difensivo in una maniera o nell'altra Giallò potrebbe pure venire integrato mi stupirebbe veramente molto poco qualora questo dovesse accadere però di fatto li è piazzati quasi tutti obiettivamente ridendo e scherzando stiamo parlando di 14 operazioni in uscita che insomma se ci andiamo a pensare non è che sia poi così tanto poco ed evidentemente all'interno di queste operazioni in uscita non si è tenuto a conto di Wojciech Ciesni che ha ufficialmente salutato la Juventus dei vari Rabiot che ha ufficializzato quei giocatori che erano in scadenza e che non sono stati rinnovati ad esempio Rugani era un altro che aveva il contratto in scadenza inspiegabilmente l'ha rinnovato a fine maggio per poi mandarlo in prestito secco all'Ajax ma lì vabbè ho già espresso al tempo le mie perplessità a riguardo però obiettivamente lato uscite hai fatto un lavoro molto importante che probabilmente a inizio giugno nessuno si sarebbe mai aspettato un lavoro del genere nei tre mesi successivi di quale due ufficiali di calciomercato e soprattutto ricordiamo per quanto magari sulla carta possa essere anche complicato e per l'amor di Dio ancora tu tecnicamente questi tre esuberi da qualche parte li puoi riuscire a piazzare appunto in tutti quei paesi dove il calciomercato continua ad essere a tutti gli effetti aperto e quali sono le scadenze degli altri paesi dei principali tra virgolette quelli forse un pochino più appetibili il 2 settembre Olanda e Portogallo il 5 settembre Croazia e Austria il 6 settembre Arabia Saudita e Belgio il 9 settembre Qatar Romania Svizzera il 10 Messico l'11 Greci il 12 Russia il 13 Turchia e Serbia dove comunque per qualche nome tra Portogallo Turchia Olanda e soprattutto Arabia Saudita magari non è da escludere al 100% il fatto che non ci possa essere della fattibilità così come probabilmente la stessa identica cosa vale non tanto per il numero delle operazioni in entrata ma per la qualità delle stesse probabilmente sì perché anche qui è comunque giusto fare a questo punto come fatto per le uscite anche un piccolo recap per le entrate perché tra una roba e l'altra hai preso Michele Di Gregorio Douglas Luiz Kefren Turam Cabal Francisco Consensao Nico González Pierre Calulu Theon Kopmeners e soprattutto direi rispetto alla stagione 2023-2024 il signor Tiago Motta ed è qui che probabilmente si può davvero forse no iniziare a ragionare su quella che è la nuova Juventus perché in virtù di tutte le operazioni fatte in uscita e di tutte quelle fatte in entrata si può parlare di una Juventus migliore più forte più completa e soprattutto costruita con un pochino più di senso logico seguendo bene o male le necessità e le caratteristiche che l'allenatore chiede per i giocatori che di giorno in giorno devono scendere in campo e secondo me sinceramente sì poi si potrebbe anche fare il semplice banale giochino delle figurine ma non ha probabilmente forse neanche poi così tanto questo senso perché se effettivamente anche per quanto riguarda un semplice banale discorso portieri Shesny è mio padre spirituale anche voi sapete benissimo quanto io adori letteralmente alla follia quel demone di Wojciech Shesny però se alla fine Tiago Motta in virtù di quello che è il suo stile di gioco desidera un portiere che ha determinate caratteristiche e qualità anche con i piedi e magari riesci a prendere Di Gregorio che è adatto magari a quel genere di gioco lì comunque portiere premiato come il miglior portiere della serie A 2023-2024 tra le altre cose per aggiungerne una complessivamente uno può giudicare Wojciech Shesny come un portiere migliore come un portiere più forte però se quell'altro è semplicemente più funzionale tutto sommato ci sta poi per quanto riguarda la difesa già sinceramente per me roba non buona di più essere riusciti a tenere Gleason Bremer e preso Cabal e preso Calulu liberandoti fondamentalmente di Alexandro e Rugani rispetto all'anno scorso Wizen poi tra le altre cose se si pensa alla stagione 2023-2024 è uno che ha fatto letteralmente 12 minuti con la maglia della Juventus quindi diciamo che l'anno scorso l'abbiamo visto veramente fino a una certa insomma per Giallò eventualmente sarebbe valso lo stesso identico discorso uno che l'è visto un quarto d'ora nell'ultima partita che non contava nulla contro il Monza sì tecnicamente era un giocatore della Rosa dell'anno scorso nell'atto pratico tutto sommato anche no e poi soprattutto magari nel momento in cui ti sei veramente convinto che bisognava fare effettivamente quella sorta di salto di qualità lì in mezzo e beh nel momento in cui mi vai a prendere Douglas Lewis Kefren Turam e soprattutto Theon Koppmeiner che cosa devi dire? sinceramente penso ci sia poco da dire altri giocatori se ci andiamo poi a riflettere pure estremamente funzionali secondo quello che è lo stile di gioco di Tiago Motta dove nessuno tra le altre cose pensava che la Juventus dopo aver investito 50 milioni per Douglas Lewis riuscisse pure a prendere per 60 un giocatore del livello di Koppmeiner anche perché ricordiamoci era una Juventus che non aveva neanche i soldi per prendere Brescianini secondo uno dei massimi esperti di calcio mercato in Italia una roba semplicemente meravigliosa ma va bene così va bene così ce la facciamo indiscutibilmente andare bene anche questa roba qui vedendo poi come il tutto si è andato a sviluppare nel corso dei giorni delle settimane dei mesi e poi per finire la davanti hai preso Consensao hai preso Nico Gonzalez e tanti saluti me cara poi in tutto questo sono stati integrati anche dei giocatori provenienti dalla next gen i classici ormai tre giocatori che di anno in anno vengono aggiunti Savona meravigliosa scoperta Rui ancora mi deve del tutto convincere però va bene e soprattutto un Bangula un'altra meravigliosa scoperta che ovviamente questi tre non li possiamo mettere tra gli acquisti della prima squadra perché di fatto erano già giocatori della Juventus di proprietà della Juventus però che sono a tutti gli effetti delle novità molto banalmente ecco che comunque ridendo e scherzando in queste due prime partite qualche gol e qualche assist tra Hildiz Bangula Savona è marcato Under 23 ma d'altronde si sapeva che fosse un progetto avanti decisamente anni luce beh che comunque a livello italiano non è che hai tutte queste grandissime competitor per quanto riguarda anche il progetto Under 23 poi certo giustamente ci si potrebbe anche porre l'interrogativo su qualche zona di campo perché secondo alcuni non abbiamo il numero di centrali sufficienti però comunque bisogna anche pur sempre dire che hai due posti a differenza magari dell'anno scorso che ne avevi tre perché giocavi con la difesa tre mentre invece adesso di centrali ne devi impiegare solamente due e hai Bremer hai Danilo hai Gatti hai Calulu come abbiamo visto potenzialmente hai anche Cabal quindi insomma hai comunque cinque giocatori per due ruoli certo sì magari in un mondo ideale sei sarebbe il numero perfetto beh che comunque adesso fino a prova contraria avresti anche la possibilità di puntare su Gialò tra le altre cose è un altro discorso ma fino a prova contraria potresti sperando che non replichi la partita fatta contro il Norimberga potresti a parte le battute che lì erano veramente imballatissimi tutti quanti dal primo all'ultimo però se magari hai giocatori che ti possono dare anche una sorta di continuità dal punto di vista fisico cinque vanno bene poi è anche sempre giusto ricordare che la cosa bella della Juventus è che può rimpinguare all'occorrenza prelevando qualcuno dall'Under 23 vero che anche Muaremovic è stato dato al sassuolo quindi potenzialmente il migliore che avresti potuto tirar su all'occorrenza non ce l'è più d'altro canto però come uno è andato uno sarà arrivato e avrai la possibilità comunque di prenderne un altro però in linea di massima posso concordare che uno in più non avrebbe guastato lì sono d'accordo ma non siamo neanche proprio a secco per quanto riguarda i difensori centrali sinceramente per quanto riguarda i terzini fondamentalmente la stessa identica cosa a sinistra hai Cambiaso hai Rui potenzialmente come appena detto hai anche Cabal a destra invece hai Calulu potenzialmente Danilo hai Savona come stiamo vedendo in queste prime partite potenzialmente hai pure Cambiaso di anche lì non è che sei proprio a secco per quanto riguarda i terzini per quanto riguarda invece i discorsi fatti per la punta posso essere anche un pochettino più d'accordo ma anche lì se comunque ci andiamo a riflettere anche proprio a livello di adattabilità di altri giocatori del pacchetto offensivo non è che sei neanche tremendamente in carestia perché certo ai Vlaovic mi piacerebbe dire ai Milik vedendo che fino a questo momento non l'abbiamo visto neanche per sbaglio ma quello è un altro paio di maniche da dopo la sosta presumibilmente avrai effettivamente anche Arkadius Milik e in caso come già detto a me non mi stupirebbe per nulla se ogni tanto anche qui in caso di carestia là davanti dovesse venire impiegato Ildis che a livello tecnico gli potresti chiedere un compito molto simile a quello che Tiago Motta l'anno scorso chiedeva a Zirze magari anche il Nico González di turno anche qui un giocatore da prelevare e tirar su dall'Under 23 perché comunque quando i giocatori sono in buone mani a grandi linee sei anche più tranquillo non dico che ti vanno bene proprio tutti quanti perché sei certo che tutti quanti andranno effettivamente a incidere sul campo però il fatto di avere una guida tecnica a modo di livello basti vedere appunto come subito è sbocciato Savona come subito è sbocciato un Bangulà a me sinceramente questa roba mi fa stare un pochino più tranquillo e per finire ragazzuoli io non sono molto bravo a dare i voti io al massimo posso esprimere un mio pensiero generale però tra entrate e uscite non dico che Giuntoli abbia fatto un capolavoro totale ma non ci andiamo neanche troppo distanti considerando quelle che poi erano soprattutto le premesse iniziali no? chi sinceramente a inizio giugno si sarebbe aspettato di commentare tutto questo e con questa qualità al 31 d'agosto io sinceramente no se devo essere sincero io sinceramente no quindi non lo so magari può essere un 8 e mezzo il calcio mercato estivo della Juventus qualora fosse arrivato Sancho probabilmente no? avremmo tirato ancora più in alto ma tutto sommato va bene così evidentemente dopo questo importantissimo numero di operazioni le disponibilità che avevi erano quelle che erano e se ti potevi permettere quel colpo a quelle determinate condizioni poteva essere un discorso altrimenti pazienza cioè te ci hai provato per quelle che erano le tue possibilità e non ha neanche troppo senso arrabbiarsi perché non è arrivato Sancho però al di là di tutto ragazzuoli voi fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto con un commento riguardo quello che è stato il calcio mercato della Juventus dal vostro punto di vista magari dando anche un voto e per il resto nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve che è